alle quali i rifiuti possono essere aspirati in mobilità. La sua efficacia è impressionante. Una massa importante di rifiuti diversi viene aspirata in pochi secondi. Nulla resiste alla potenza aspirante a due velocità sempre a portata di mano del gluton, nemmeno una bottiglia da due litri e mezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.